Ben trovati amici di Obiettivo 100 siamo qua con Giacomo Balboni di Orgoglio Centese ormai conoscete la lista e conoscete Marco Pettazzoni io lo conosco da bambino addirittura Giacomo con gli sbandieratori quando facevo i campi solari alle pascoli riaperte tra l'altro io ti ringrazio l'ho voluto contattare come rappresentante del volontariato se ne hai parlato tanto in questa campagna elettorale del volontariato e partirei proprio dalla prima domanda perché hai deciso di candidarti? Innanzitutto grazie per tutto quello che stai facendo ho scelto di candidarmi perché appunto l'esperienza e l'attività anche maturata in otto anni di presenza anche nella consulta civica cento pensale di cui tra i quattro anni anche fatta come presidente appunto abbiamo riscontrato tante problematiche e da lì appunto l'incentivo a far parte di essendere in campo appunto in questa tornata elettorale quindi niente di meglio di essere veramente orgogliosi di cento quindi orgoglio centese. Il fatto anche del volontariato appunto essendo all'interno di varie associazioni nominavano gli sbandieratori ma quella ormai è preistoria dice anche più di recente appunto facendo parte di altre associazioni sono stato anche tra gli organizzatori del centro street festival insomma sicuramente avrete presente quindi iniziative estive con i commercianti quindi ho potuto toccare con mano quali sono le problematiche le difficoltà per organizzare un evento e quindi ho detto bisogna semplificare l'unico modo per semplificare cercare di entrarci ed esserci ma membri del volontariato penso che siano stati corteggiati da ogni candidato come come si arriva maturato la tua decisione di scegliere Marco? Il fatto di essere civico e proprio nel suo motto cambia cento cioè secondo me questo è fondamentale poi anche gli altri componenti della lista sono gente che comunque sono stati in consiglio comunale sono state hanno tante esperienze anche loro della macchina organizzativa del comune quindi insomma ho ritenuto che fosse la squadra migliore con cui far parte. E suppongo che tu come membro ripeto il volontariato abbia contribuito anche molto al programma ci sono delle punte che senti tu e particolarmente? Due parole proprio sburocratizzazione cioè semplificazione in modo tale da agevolare le tante associazioni che hanno degli eventi vorrebbero organizzare che però si trovano limitati e quindi non possono andare in piazza siamo in tantissime associazioni se ognuno portasse un'iniziativa ogni fine settimana avremmo tutto l'anno pieno. Sì assolutamente io devo dire che questa campagna elettorale tutti quanti hanno parlato di sburocratizzazione del comune se manca già un termine cioè io veramente io mi aspetto che nei cinque anni prossimi cinque anni uno va in comune cioè in dieci secondi riesce a uscire. Speriamo. Ma a parte la burocrazia il volontariato come è messo a Centro? Cioè cerchiamo di farlo capire. Allora il volontariato è tanto presente e allevia molti costi dell'amministrazione cioè a Centro abbiamo sia la gestione con Centro Insieme che appunto l'associazione delle associazioni che gestisse appunto adesso con la nuova casa del volontariato degli spazi appunto per cercare di sensibilizzare la popolazione anche con le varie iniziative e gli argomenti che vengono trattati dalle singole associazioni però appunto a Centro abbiamo dall'assistenza agli anziani al parco del gigante quindi la gestione dei bambini quindi tutti tutti i settori quindi bisogna appunto seguirli ascoltarli tutti perché basta poco insomma. Io ho assistito agli incontri a qualche incontro fatto da Centro Insieme alla casa del volontariato e ho riscontrato che praticamente in grande sostanza tutte le associazioni del ministro non di essere state abbandonate. Sì diciamo che anche negli anni giunte precedenti sì ci sono state chi più chi meno sindaci e amministrazioni che hanno ascoltato però dopo nel concreto mettere in pratica in poche sono riuscite per non dire nessuno e quindi alla fine molte associazioni si sono trovate in difficoltà perché adesso va bene siamo anche nel periodo della pandemia però fare attività di raccolta fondi e andare comunque in piazza se non c'è una collaborazione non si riesce a fare. Ma adesso io ti ho descritto come membro del volontariato ma te sei un centese quindi un centese storico perché ti ripeto io ti ricordo a bambino e sei sempre stato uno che ha vissuto la piazza. I centesi di cosa hanno bisogno da un'amministrazione? Perché tutti sono sempre così arrabbiati con le amministrazioni? Di essere ascoltati e di risolvere il piccolo problema che hanno sotto casa quindi dal buco dal quando piove che si forma la pozzanghera dove non importa al buco nella viabilità che crea vibrazioni in casa quindi. Sì no delle volte noi siamo la città la città di antonomasia della carta pesta e facciamo anche gli asfalti di carta pesta quando piove nell'asfalto. Esatto. Quindi sì basta un minimo ascoltare e rispondere alle esigenze primarie. E te ritieni che Marco sia la persona capace di fare questo? Secondo me sì perché appunto tutto l'insieme delle persone che ci sono la pensiamo tutti uguali e l'obiettivo è quello di risolvere subito i problemi quelli più banali più essenziali in modo tale da sistemare tante cose cioè ci vuole ben poco a sistemare queste cose bisogna solamente dare via. Sì esatto mi piace lo schiocco di Thanos che risolviamo. Ma invece la squadra di orgoglio c'è inteso dal tuo punto di vista che valore aggiunto può dare a Marco? La competenza e l'esperienza. Adesso non sto a fare i nomi di tutti perché sennò ci... L'ho pensato Veronesi che mi ha impiegato 5 minuti e solo a elencare i nomi. Però insomma basta andarli a scorrere e andare sul sito nei tabelloni che hanno già esposto insomma si può vedere un ampio panorama di persone che hanno già frequentato e conoscono il territorio. Beh insomma sì anche persone come Veronesi che delle volte sarebbe anche uguale che ci levassero da parte però invece ne sono ancora qua. Sto scherzando Veronesi sta ascoltando qua dietro e noi ci piace prenderlo in giro. Ma invece io vorrei soffermarmi su un'altra cosa. Gli altri candidati dal tuo punto di vista cosa hanno di meno rispetto a Pietazzoni? Perché io su questa cosa qua lo chiedo poco però... A me lo chiedi proprio. Lo chiedo a te perché tu io ti ripeto ti riconosco come uno dei massimi rappresentanti dei centesi. Fai parte di una lista che si chiama Orgoglio Centese e quindi secondo me poche persone rispetto a te possono veramente far capire a chi guarda il perché cos'è il centese e perché dovrebbe scegliere un marco rispetto da altri? Allora rispondere a questa domanda è molto difficile perché logicamente... Sono qua per complicare la vita. Sì. Allora parto da Edoardo perché alla fine anche lui fa parte della consulta quindi insomma ci conosciamo da diversi anni. I rapporti sono tutti positivi però insomma alla fine manca sempre un qualcosa che non so neanche... Quel quid in più. Esatto. Poi passando anche a Tuzet cioè Tuzet mi ricordo i suoi cinque anni insomma sì preciso tutto quanto legalità e quant'altro però dopo i rapporti con i centesi sono stati molto ostili. E Fabrizio durante la sua intervista ha detto riconosco di aver fatto degli errori che non ripeterò. Secondo te è credibile quando dice questo? Magari a luce dei suoi partiti? Intanto grazie che l'abbia ammesso perché insomma già questo secondo me è un buon senso almeno di responsabilità insomma ammettere gli propri errori. Nessun candidato avrà la bacchetta magica per risolvere i problemi. Però insomma Tuzet li ha ascoltato tanto ma dopo è mancato in concreto il mettere in pratica soprattutto nei confronti del volontariato insomma non sono le ultime cose che dopo sistemano quello che è mancato negli anni precedenti ecco. Guarda io concluderei con una domanda. Io ho fatto queste interviste per valorizzare il ruolo del consigliere comunale perché è una figura che secondo me è stata molto sottovalutata negli anni precedenti e che secondo me deve tornare a essere presa come propria. Il consigliere comunale è quello che rappresenta i cittadini e delle volte anche più del sindaco. Tu come consigliere comunale che lavoro intendi fare? Allora sono un perito agrario quindi sono nel settore agricolo quindi il terreno il terreno nostro di Cento è un terreno particolarmente evocato soprattutto nei secoli scorsi anche gli stessi affreschi del Guercino ricordano appunto il paesaggio con la canapa quindi c'è tanta richiesta in un certo senso in questo periodo di tessuti si va a mangiare la pizza trovi l'impasto con la farina di canapa insomma quindi vedere di incentivare di avere i rapporti con le associazioni di categoria con gli industriali con eventuali quindi gestori di tutta questa filiera in modo tale da invogliarli insomma per riportare questa filiera a Cento. Vuoi fare l'accollante insomma tra l'amministrazione? Si perché logicamente bisogna avviare cioè se c'è anche mettiamo una start up o comunque qualcosa che possa partire ha bisogno comunque dell'appoggio dell'amministrazione quindi secondo me il mio ruolo potrebbe essere benissimo in questo settore dove in tutta Italia a macchia di Leopardi insomma si sta appunto cercando di ricoltivare questa cultura della canapa con diversi utilizzi, chi per la spremitura, chi la farina, chi ad uso farmaceutico ma la nostra specialità Cento era fare corda, fare tessuto. La corda veniva data alle truppe inglesi sulle navi, sulle flotti insomma. Abbiamo anche una squadra di tiro alla fune, così la aggiungo in mezzo. Però effettivamente la canapa di Cento era molto importante, era anche sede della borsa del mercato della canapa quindi insomma riportare questa coltivazione a Cento può essere anche un modo per gli agricoltori di dare una giusta rotazione alle culture visto che attualmente ci siamo ridotti a mais, grano e poche altro, frutteto ormai non ce n'è più quindi cercare di riportare quello che è la tradizione nostra incentivando in modo tale che ci possano essere ritorni economici anche per l'agricoltura non solo le altre attività insomma quindi questo penso che sia il mio settore. Bene, io ti ringrazio, penso che lui si sia presentato molto bene, ti ringrazio soprattutto perché hai dimostrato una cosa, da ogni persona si può imparare qualcosa, si può raccogliere un pezzo di storia della città, un pezzo proprio anche del tessuto socio-economico della città e quindi per me è stato un onore intervistare tutti quanti e conoscere un po' meglio la nostra città. Poi voglio rassicurare che i gnocchini fritti continuiamo a farli. Ecco, questo è importante perché non sa mai che ci sia qualcuno che si metta dietro come il sottoscritto. No, tu lo impedirai questo. Va bene, io vi ringrazio, grazie a te per essere stati nostri e alla prossima intervista. sees a te per essere stati驢ati? Iscriviti al nostro canale conoscimento e guann